Cocaina, hashish e marijuana nel negozio nel centro di Montevarchi, ritenuto dalla Guardia di Finanza una vera e propria base di spaccio di droga. A scoprirla le fiamme gialle della compagnia di San Giovanni Valdarno con il supporto delle unità cinofile di Firenze. Nel locale i militari hanno trovato circa 130 grammi di stupefacente. È così scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti per un 45enne montevarchino, titolare dell'attività. La droga invece è stata messa sotto sequestro. Sempre a Montevarchi le fiamme gialle hanno scoperto anche due lavoratori irregolari in un'attività del centro storico. Nei confronti del titolare, così scattato il verbale, rischia sino a 10.000 euro di sanzione per ogni persona occupata in nero. L'operazione è stata condotta dalle fiamme gialle nell'ambito dei servizi di controllo degli esercizi commerciali.